buongiorno amici buongiorno allora sono a lugano all'area camper del tassino parcheggio dignitoso comunque carino nel senso niente più ma la cosa bella vicino c'è il parco del tassino bello da vedersi la cosa bella è carico scarico scarico e carico pulizia vc e carico delle acque carico delle acque chiare qua carico delle acque c'è il suo bottone rubinetto la cosa bella udite udite comuni italiani comune di come o quello che sia io parlo soprattutto per il mio comune gratuito cioè si paga il parcheggio ma il servizio è gratuito